qualche idea per aiutare la mano debole quello che dico sempre ai miei allievi una buona strategia per sviluppare bene la mano debole la sinistra per i destri e la destra per i macini è di farsi le pippe con quella mano però poi succede che molti mi dicono ma Fabio io ho praticato tantissimo anche in passato però sta mano rimane sempre debole facciamo un esercizio di duine e terzine con degli accenti e vediamo come allenare sta mano guarda che mare guarda che mare ho avverto sono esercizi tosti eh io non faccio sconti a nessuno guarda questo come ho ridotto ti è io ho fatto fa due ore di paradito sotto al sole è ma ora vediamo come rullo a 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 sinistra 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 nella terminologia inglese left right e ho accentato degli ultimi quattro colpi il primo e l'ultimo esercizio esercizio inizia con la mano sinistra e c'è una preponderanza di colpi di sinistra proprio perché si tratta della mia mano debole ora ora se dalla metrica in ottavi passo alla metrica in terzine avviene una cosa interessante cioè pur mantenendo la stessa diteggiatura sinistra sinistra destra destra sinistra 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 ma con metrica in terzine ci sarà un interessante spostamento di accenti che faranno in modo che la mia mano sinistra lavori in una maniera piuttosto stimolante dovendo fare attenzione a tutti gli accenti che incontrerò man mano ed è facile notare che per concludere completare il giro devo questa volta suonare due misure anziché una all my friends don't like my girlfriend i 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 help ades il il contatto tirare creare movimenti con la mano sinistra che è sì importante perché comunque serve un allenamento muscolare ma quello che io devo sviluppare e andare a stossicare è la memoria muscolare la memoria muscolare che parte da qua quindi io devo iniziare a ragionare da mancina devo comportarmi come se la sinistra fosse la mia mano principale e non quella di dove in shit with a big mouth smell like dicks it's summer dollar my girls